Buongiorno a tutti, un po' per esigenze di scaletta ma contemporaneamente per la possibilità poi di approfondire in altri momenti gli argomenti prettamente italiani che andrò a trattare, sarò estremamente rapido anche perché non so bene la durata effettiva della presentazione, non ho avuto modo di cronometrarla. Allora io lascerei riferimento all'ultimo argomento trattato dal collega Carisi in un secondo momento e tratterei alcuni cenni sul gruppo Unicredito, soprattutto un riferimento lo farei immediatamente all'articolato progetto che ci ha coinvolto a inizio 2001 successivamente la fusione delle sette banche, incorporazione delle sette banche nel gruppo che ha dato vita alla creazione di tre banche di segmento, Unicredit Private Banking, Unicredito Banca Retail e Unicredito Banca d'Impresa che siamo noi. Una quarta divisione rappresentata dalla New Europe che Carisi accennava prima. Unicredit Banca d'Impresa che si rivolge prevalentemente alle imprese con un fatturato superiore a un milione e mezzo di euro. Al suo interno troviamo dei livelli di professionalità elevata rappresentati da gestori che seguono un limitato portafoglio clienti, che si avvalgono anche di specialisti per le varie funzioni ed esercito. Sono in un territorio, lo vedete qua rappresentato a mie spalle, che è la direzione regionale centro-nord, una delle quattro direzioni regionali che compongono la banca d'impresa. Oltre ai gestori che seguono le singole posizioni, ci sono degli specialisti di prodotto, nel nostro caso specifico, quindi non parliamo solo di erogazione del credito ma anche di internazionalizzazione. specificatamente Banca d'Impresa si avvale di specialisti estero e di centri di specializzazione, che sono i CEM, gli estero merci per l'operatività ordinaria, che affiancano il gestore, quindi il cliente, nel processo di internazionalizzazione. A loro volta siamo supportati da un ufficio centrale, sviluppo mercati internazionali, che è un po' il depositario di tutto l'amministrativo necessario a far sì che le aziende che hanno o intendono attivare attività nel Paese, ha necessità. Parliamo dalla presentazione all'apertura di rapporti di conto corrente, alle emissioni di garanzia, tutto quanto è necessario per far funzionare la nostra attività nel nuovo Paese. Diciamo che gran parte di queste attività le possiamo svolgere direttamente noi qua in Italia, quindi senza necessità di creare inutili viaggi, lasciando il viaggio e il trasferimento magari alla costituzione della società oppure alle incombenze che necessariamente ci coinvolgono nel nostro processo di internazionalizzazione. All'estero il gruppo Unicredito è rappresentato, adesso ve l'apro tutto così è più facile riuscire a capire. Allora qua di fronte abbiamo il cambiamento di strategia che ha caratterizzato il gruppo Unicredito in questi ultimi anni, dove prima lo vedeva operare attraverso singole filiali, magari grosse, ma sempre però uniche filiali, che quindi non riuscivano a dare quell'assistenza necessaria. Il cambiamento di strategia ci ha visto massicciamente investire nei Paesi dell'Est e ha ragione, in quanto i dati che ci stanno ritornando sono estremamente confortanti. cambiamento di strategia che ci ha visto acquisire addirittura interi network che generalmente cerchiamo di comprare molto simili alla nostra situazione qua in Italia o che gradualmente potranno essere una replica della nostra situazione qua in Italia. Ci siamo riusciti ad esempio in Polonia, sicuramente in Croazia e in altre parti ci stiamo impegnando, in Bulgaria. Ecco, quindi su tutti questi Paesi, come diceva Adriano Carisi prima, abbiamo creato dei desk fuori di questi istituti che servono un po' da fluidificatori di quello che è la necessità del cliente italiano a renderla commestibile alla banca dall'altra parte. Commestibile perché? Perché naturalmente anche orché ci sia il nostro marchietto, quell'uno rovesciato, dritto, o in alcuni casi ci sia scritto addirittura un i-credito, effettivamente quelle banche rappresentano una situazione legata principalmente al Paese che le ospita. Quindi il processo di evoluzione può essere, nel nostro caso sarà estremamente breve, ma in altri casi può essere sicuramente più lungo. Ecco, questo è il completamento della nostra presenza nel mondo, presenza che si avvale anche di accordi di collaborazione con altri Paesi, accordi di collaborazione che comunque ci garantiscono un'assistenza sicuramente all'altezza dell'iniziativa, per fronteggiare l'iniziativa del nostro cliente. Faccio ad esempio un riferimento alla Cina, dove un po' per esigenze, o forse perché siamo veramente costretti, perché altre situazioni non sono percorribili, o perlomeno abbiamo preferito non percorrere, ci ha visto chiudere un accordo di collaborazione con Benka o Vistasia, che effettivamente sta dando dei risultati molto importanti. E il gradimento da parte dei clienti ci è più volte riconosciuto. Ecco, Carisi parlava prima del leasing, io aggiungo anche il factoring e l'home banking, il cash management, che siamo in grado già di offrire in alcuni di quei Paesi che avete visto. Naturalmente e correttamente evidenziava che ancora a livello legislativo deve essere un attimo ricompreso, quindi il fatto di andare a fare del leasing e non sappiamo che benefici a livello fiscale possa comportarci, e sulla sua validità anche come tipologia di operazione potremmo eventualmente approfondirlo. Fondi strutturali, nostra intenzione è creare all'interno di ogni desk di ogni singolo Paese una persona di riferimento, che poi sia da scopritore delle varie possibilità di accesso a questi fondi strutturali. Allora, abbiamo parlato molto velocemente di quelle che potrebbero essere le possibilità, ho sottinteso di quelle che potrebbero essere le difficoltà di accesso anche al credito, soprattutto per una società di nuova costituzione. Per ovviare a queste difficoltà, la mia, la nostra indicazione, quello che cerchiamo di trasmettere alla clientela, è quello di riuscire a pianificare qua in Italia quella che è la più corretta copertura al fabbisogno finanziario che interesserà al nostro processo di internazionalizzazione. Esaminando tutte le varie possibilità, promuoviamo quanto lo Stato italiano oggi sta mettendo a disposizione delle imprese attraverso la sua Merchant Bank che è Simest e io qua vi ho riassunto le tre leggi principali, la prima delle quali tutti avranno sentito parlare di Simest, non è un argomento, ancorché ci sia il marchietto Unicredito della banca Unicredito, ma però finalmente posso dire, anche per esperienza diretta, di aver trovato uno strumento che riesco ad applicare. Nonostante le varie difficoltà che generalmente si incontrano con organismi così complessi, riusciamo effettivamente a integrare la nostra forza con agevolazioni o processi agevolativi che rendono l'iniziativa sicuramente molto più semplice e più conveniente. Perdo ancora un minuto, più conveniente ho detto, vi lancio solo dei flash. Oggi andare ad indebitare la nostra nuova società in un paese come uno qualsiasi di quei paesi dell'est dove la tassazione media si aggira dal 16 al 19%, automaticamente rende non conveniente sotto il profilo fiscale un intervento del genere. Sotto il profilo economico, che forse è il più importante, con un intervento agevolativo di questo genere, rende qualsiasi altro tipo di intervento assolutamente fuori mercato rispetto ai costi che riusciamo a garantirci. Un altro aspetto molto importante può essere legato a un'estetica di bilancio e un richiamo a Basilea II. Il creare un collegamento diretto da una società italiana alla società controllata estera e vede correttamente toccare delle voci di bilancio che fino ad oggi invece venivano gestite non con correttezza, in quanto noi finanziavamo la nostra attività dall'altra parte attingendo da disponibilità di anticipo portafoglio o di altre forme, comunque credito a breve, e andavo a gonfiare quella voce crediti che non rispondeva più in termini di tempo al corretto business che stiamo svolgendo. Un intervento del genere mi permette di spostare nella parte bassa del bilancio in quanto io avrò partecipazione a banche a medio-lungo termine o interventi a medio-lungo termine, perché è pur sempre un prestito quello che ci fa Simest, è un intervento a scadenza, ma sicuramente è molto più corretto. Non da ultimo, e soprattutto in paesi particolarmente difficili, non sicuramente questo, la presenza di Simest e quindi dello Stato italiano può essere qualificante anche agli occhi dei terzi che all'interno della nostra compagine sociale sia rappresentato anche lo Stato italiano. Allora, parto molto velocemente, anche perché qua sarebbe veramente a perdere tanto tempo. Appena nasce l'idea nella nostra testa di approfondire la conoscenza su un determinato paese per qualsiasi tipo di internazionalizzazione, perché internazionalizzazione non è solo quella che chiamavamo una volta la delocalizzazione, quindi creare una nuova sede produttiva o un qualche cosa di stabile. Internazionalizzazione è anche l'approfondimento di una relazione che abbiamo con un nostro fornitore, magari al quale abbiamo trasferito, incomodato un macchinario. Insomma, sono tanti gli aspetti che caratterizzano l'internazionalizzazione. Comunque, appena abbiamo una qualche idea che finalmente ci porta fuori dal nostro mercato domestico, abbiamo la possibilità di attingere a questa legge 143 che si chiama Studi di Fattibilità e riusciamo a ricomprendere dentro questa legge tutte le spese che andremo ad incontrare nel nostro processo. E' una legge che non implica particolari difficoltà nel richiederla, arriva sino a 361 mila euro come totale che riusciamo a garantirci, tre anni la durata dopo un periodo di ammortamento di 12 mesi, a un tasso dello 0,80%, quindi è una cosa sicuramente interessante. La legge a cui tendiamo principalmente è questa legge 100, cioè la partecipazione diretta, quindi successivamente lo Studi di Fattibilità che ci conforta nel prendere la nostra decisione di trasferire, di creare qualche cosa, non trasferire, creare qualche cosa di nuovo all'estero, è la legge 100, dove l'intervento di Simest nel capitale della società estera fa sì che mi porti come beneficio una riduzione sulla rimanente parte, la faccio abbastanza breve. In poche parole, Simest interviene sino al 25%, in questo caso qua, quindi mi sottrae impegno finanziario sino al 25%, portandomi in dote però sul 50% circa del mio apporto un'egevolazione in conto interessi pari al 2,40%. È un finanziamento con durata massima 8 anni e al cui interno 3 anni di pre-ammortamento. Quindi 2,40% di contributi in conto interessi. Il 25% di Simest su alcuni Paesi da poco tempo, da poco più di un anno, è stato integrato con un interiore intervento da parte dello Stato attraverso il Ministero delle Attività Produttive che ha messo a disposizione dei fondi di Venture Capital che fa sì che si arrivi addirittura sino a un massimo del 49% di appoggio da parte dello Stato nella nostra nuova iniziativa. 49% che vi ripeto è comunque 49% che dovremmo negli 8 anni restituire quindi non c'è nulla di agevolato in conto capitale ma l'agevolazione ritengo che sia particolarmente interessante riguarda esclusivamente gli interessi. Ecco i fondi attivi che abbiamo in Russia, Jugoslavia, Balcani, Mediterraneo e Cina e sono fondi che gradualmente vengono integrati anche con altre nazioni probabilmente a breve verrà fuori anche l'India a seconda dove i nostri imprenditori saranno diretti. Ecco, chiudiamo perché qua sennò perdiamo cuore l'ultimo accenno anche sotto il profilo il segmento del commercio è assistito attraverso la legge 394 anche qua è una legge che come costo complessivo si aggira intorno all'1,40% questo per dirvi che sicuramente abbiamo degli strumenti che possiamo sfruttare noi siamo in grado di approfondirli già da subito sono presenti in sala anche specialisti estero in tutti i casi i nostri riferimenti ci sono sul brochure e saremo lieti di accompagnarvi e essere qualcosa di più della solita banca ma diventare addirittura partner grazie grazie